Salve, salve, come va? Tutto bene? Siamo presentando due provvedimenti, la PAC e poi ciò che è la sostenibilità per il mondo dell'agricoltura, dall'altra parte, loro sono i ragazzi dell'istituto alberghiero di Scappi, lo so, di Castel San Pietro, per coinvolgere, ragazzi dell'alberghiero, non si possono non andare a salutare. Se a Pio ci vedete, di là ci sono tutti gli scelte, i ragazzi che lavorano con il mio. Ciao! Grazie 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 Grazie